Allora, è cambiato qualcosa nell'uso e nella competenza d'uso dell'IT nella PIA? C'è un uso più avanzato e consapevole? C'è una domanda complessa, come puoi immaginare, è cambiato rispetto a che... è un discorso lungo. Di sicuro quello che stiamo provando a fare come team per la trasformazione digitale è di sbloccare dei processi che magari erano fermi e mettere a posto quei building blocks che servano a rendere più efficace l'utilizzo dell'information technology all'interno della pubblica amministrazione. È un processo lungo e di sicuro è un processo che avrà bisogno di sforzi maggiori rispetto all'incipit che abbiamo dato in questi due anni, ma è un processo che ci sentiamo di dire che abbiamo iniziato.